Il sindaco di Petrosino dispone la chiusura quotidiana alle ore 14 di tutte le attività commerciali, tranne le farmacie e i negozi di genere alimentari, firmato un'ordinanza a seguito delle ulteriori misure restrittive varate ieri dal Presidente della Regione. A partire da oggi, 21 marzo, tutte le attività commerciali attualmente autorizzate resteranno aperte dal lunedì al sabato fino alle ore 14. Lo ha disposto il sindaco di Petrosino, Gaspare Giacalone, con una ordinanza contingente alle emergenze derivanti dal coronavirus. Il provvedimento è stato adottato a seguito delle ulteriori misure restrittive adottate con propria ordinanza dal Presidente della Regione, Nello Musumeci, per il contenimento del coronavirus. Nei giorni feriali resteranno aperti, anche dopo le 14, soltanto le farmacie e i negozi di vendita di genere alimentari. La domenica, così come disposto dal Presidente della Regione, resteranno chiusi tutti gli esercizi commerciali attualmente autorizzati, fatta eccezione per le farmacie di turno e le edicole.